È successo stamattina a Villalba, un anziano che abita nei pressi della chiesa madre, che era la guida della sua macchina, giunto nella piazza per motivi ancora da accertare, è catapultata nella sottostante strada riportando contusioni varie. Fortunatamente nella strada non si trovava nessuno e proprio pochi istanti prima una signora aveva attraversato quella strada scampanto così quel pericolo. Sul posto poi sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri per prestare i primi soccorsi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Fortunatamente non c'è stato qualcosa di grave. Sul posto poi è arrivato anche l'elicottero che ha trasportato l'anziano conducente, cosciente, all'ospedale Caltanissetta per le cure del caso.